Allora Federico Ceccon, giudizio sulla tua gara di oggi? Ma oggi non mi sono piaciuto così tanto, un po' stanchezza di tutto il lavoro estivo, però una stagione buona, mi è piaciuta molto, buoni risultati che fino a due anni fa non avrei mai pensato. Sono arrivato qua sì un po', mi sono preparato però non ero al top fisicamente, mi è un po' stanca e fisico non al top ecco. E buone premesse anche per la stagione invernale a questo punto, tutto ciò che hai fatto soprattutto in continuale campi e in fisca. Sì, abbiamo fatto un buon lavoro fisico e adesso faremo un mese di pausa, diciamo, non saltiamo e aspettiamo la neve. Possiamo dire che per te questa sarà la stagione della verità? Speriamo di sì, dai!